Più di 51.000 marchigiani hanno scelto e votato Forza Italia, lei era in lista con la campionessa olimpica e già sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali, l'elezione è sfumata? Beh, l'elezione di Stefano Aguzzi non è che sia sfumata, io ero al secondo posto a livello regionale e Forza Italia se ne eleggerà uno, perché ancora non è stato ben definito il risultato, se ne eleggerà uno, elegge il numero uno, quindi chi era davanti a me, Valentina Vezzali, che se la sta giocando in questo momento con il secondo del PD, quindi non si sa se scatterà il secondo del PD o il primo di Forza Italia, se scatterà sarà Valentina Vezzali, io ho dato un contributo alla lista, un contributo a Forza Italia e mi fa anche piacere il risultato che alla fin fine abbiamo ottenuto. Qual è stato secondo lei il punto di forza della centrodestra, ma anche come valuta il dato ottenuto da Forza Italia? Beh, guardi, il centrodestra che vinceva era abbastanza scontato, che i Fratelli Italia avrebbe avuto un grande risultato era altrettanto scontato, io l'avevo fortemente previsto, anche oltre le previsioni come di fatto è stato. Forza Italia era sicuramente fagocitata, diciamo, da questo esploat della Meloni, invece vi dirò che quell'otto e quasi e mezzo per cento a livello nazionale mi soddisfa moltissimo, perché Forza Italia non solo ha avuto un buon risultato, ma avrà anche un ruolo centrale nel nuovo governo, di grande forza, perché comunque è una forza moderata, europeista, che farà parte del nuovo governo con ministri di peso e sicuramente con anche delle buone idee da proporre. In questi ultimi dieci giorni ha fatto poca campagna elettorale, è stato nel merino delle polemiche post alluvione, che cosa risponde a chi le ha chiesto di fare un passo indietro? Succede questo, che il risultato a livello nazionale mi soddisfa molto, ma mi soddisfa anche quello a livello locale. La provincia di Pesaro, storicamente, insieme a quella da Ancona, nelle Marche è sempre stato il fanalino di coda per Forza Italia. Invece in questo momento la provincia di Pesaro ha, diciamo, un po' pareggiato quello che è il risultato anche del sud delle Marche. Dalle regionali in poi Forza Italia è cresciuta in questa provincia, quindi se vi promettete, forse anche in piccolo merito, ce l'ho anche personalmente. Seppur, oltretutto, io nell'ultima settimana, anzi negli ultimi dieci giorni, dopo che è successa la disgrazia dell'alluvione del Misa, io come assessore della protezione civile ho passato esclusivamente il mio tempo, giorni e notti, a seguire quell'emergenza, stando sui territori, sul campo, la sala operativa e di conseguenza non ho più fatto campagna elettorale. Sfido chiunque a dire di aver ricevuto nell'ultima settimana una telefonata da Stefano Guzzi. Io non ho neanche telefonato agli amici, quindi non ho fatto campagna elettorale, non avrei cambiato le sorti del mondo, ma magari qualche centinaia di voti in più nella mia Fano probabilmente sarebbero usciti se io mi fossi impegnato fino alla fine. Ma va bene così, sono soddisfatto e ho fatto il mio lavoro, il mio dovere, che era la priorità, quello dell'alluvione, non la campagna elettorale. Su questo invece mi meraviglio molto di una cosa e lo voglio dire. Sono stato zitto per una settimana, ho subito per una settimana, non ho replicato perché non avevo voglia, tempo e non ritenevo opportuno. Ma tutti questi attacchi che io ho ricevuto in questi dieci giorni, durante la campagna elettorale, da esponenti della sinistra e particolarmente del PD, sui social, attraverso la stampa, ma anche negli incontri pubblici che hanno tenuto sul territorio, richieste di dimissioni, come se fosse colpa mia quello che è avvenuto sul Misa, ecco, speculare sulle disgrazie della gente, sui poveri morti e sulle persone ancora sotto il fango, è da vergognarsi. Quindi chi lo ha fatto si deve vergognare.